1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 10 È stato molto interessante affiancare strumenti come il clavicembalo, la viola da gamba, il fagotto È una cosa nuova, va, 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 va È stata molto interessante affiancare strumenti come il clavicembalo, la violenza è una cosa Slow man, left hand, right hand Above turn, double up, salute